L'etnografia, che è la pratica che noi antropologi e antropologhe mettiamo in atto quando vogliamo fare una ricerca, che è quella dell'incontro, si pongono in una direzione che non è quella soltanto di fare domande per ricevere risposte, perché quello è un modo da poliziotti, tendenzialmente da detective, che è esattamente quello che purtroppo ha fatto l'antropologia per un secolo. Invece oggi il mio modo di fare antropologia è un'antropologia non egemonica, sicuramente con uno sguardo non coloniale, in cui io stesso ricercatore mi metto in discussione, cioè io so che io sono uno dei mondi possibili, non l'unico, e cerco di mettermi nei panni dell'altro quantomeno nel momento in cui faccio la ricerca per la capacità di sapersi mettere in prospettiva con l'idea dell'altro, il vissuto dell'altro, e quindi tendenzialmente quello che facevo le prime settimane, i primi mesi di ricerca, era condividere spazi di vita, prima di fare le domande. Poteva essere fare una partita a calcetto con le persone che volevo incontrare, andare al ristorante, fare un trasloco, imbiancare una casa, passare del tempo a chiacchierare su altre cose, non le domande specifiche. Farmi fare delle domande a me, chi sono io, cosa faccio perché sono qua, l'altra cosa da evitare, e io questo lo dico se ci ascolterà qualche antropologo o antropologa che si sta dottorando, sta finendo la sua tesi di specializzazione, mai fingersi per quello che non si è, tipo l'antropologo che va con il libro, con la telecamera nascosta, quella roba è sbagliatissima, oppure dire che ne so, fingersi un acquirente da uno spacciatore per raccogliere informazioni, bisogna dichiararsi per creare qualcosa di generativo, fiducia e una descrizione densa di quello che succede fra te e la persona che incontri. Quindi non sono proprio solo interviste, sono conversazioni e scambi in cui tu ti metti sul piatto della discussione, tu come antropologo. E quindi le ricerche partivano così, questo vuol dire che la ricerca antropologica e etnografica secondo me sia ben fatta e lenta, non può essere veloce, è fatta di grandi attese, di momenti in cui, un po' come quando si fanno documentari, che so che a te interessano, dove tu stai riprendendo, magari il tuo focus è il fiume, ma sai anche che potrebbe succedere qualcosa durante il progetto, che è un percorso e quindi stai riprendendo anche le rocce, adesso faccio un esempio a caso, e poi nel momento di post produzione vedrai che le rocce erano fondamentali e quindi le metti dentro il documentario. Ecco a me è successo spesso questa cosa, cioè di non focalizzarmi soltanto su quello che era la mia idea di ricerca, ma capire anche le istanze di quelli che potremmo chiamare i miei interlocutori, interlocutrici sul campo, o intervistati, insomma non mi piace usare intervistati per quello che ho detto prima. E quindi tendenzialmente la ricerca ha bisogno di grande pazienza e di almeno un po' di tempo. E poi dopo aver fatto questo si passa a quello che viene chiamato appunto invece in campo documentaristico o del film, la post produzione, no? E per noi antropologi è mettersi a guardare i dati che hai raccolto, i dati e le esperienze appunto perché non sono solo dati. E in quel caso si studia, si lavora su quello che altri hanno scritto prima di te, su quello che stai studiando e si cerca di raccogliere il più possibile informazioni su quello che è anche l'intorno al campo di ricerca che tu hai deciso di affrontare. E poi una cosa che faccio io, che è una cosa mia, ma non soltanto mia per entrare proprio nel flusso dell'idea del non essere egemonico e non avere una gerarchia in cui sono io che decido su di te perché ti ho intervistato, quando io finisco questo lavoro di solito riconsegno quello che io ho prodotto dal punto di vista di scrittura sulla persona che ho condiviso con me, gli mando quello che ho scritto e gli chiedo se si riconosce. In modo che possa cambiare qualcosa o dirmi no, io ho cambiato idea, non ci voglio stare nel tuo libro perché ti ho detto quelle cose perché stavamo assieme, ma adesso che le vedo scritte non mi ci riconosco più, mi è successo. E hai tolto, hai modificato il libro. Sì, sì, perché questo succede prima di mandarlo all'editore proprio. È una cosa che rimane sempre soltanto fra me e le persone che incontro. E l'altra cosa, a seconda delle persone, molte non vogliono rimanere anonime e quindi si cambia il nome. E altre invece vogliono il nome e cognome. Cioè nel mio ultimo libro che si chiama Essere Natura ci sono persone che hanno lo pseudonimo, scelto assieme oltretutto, e altre che dicono no, io voglio nome e cognome perché rivendico totalmente la mia scelta di vita, quello che ti ho raccontato e voglio, cioè quasi come se fosse ed è una questione coautoriale. Questa è la mia vita, è vero, l'hai scritto tu, l'hai raccolto tu, però sono io e quindi nome e cognome ci sta. Completamente. Ma tu ti senti nel libro dici che sei un etnologo, no? Ma ti senti più etnologo o antropologo? O vanno di comune passo, diciamo? Vanno di comune passo per me. Ci sono altri antropologi che si dichiarano soltanto antropologi e degli etnografi che si considerano soltanto etnografi. Grazie mille.